Comunque è sempre difficile, penso che sia sempre difficile venire comunque a Livorno, insomma la squadra comunque è attrezzata bene, però sì, per come si era messa la partita è stata dura, perché due espulsioni, comunque a mezz'oretta dalla fine, non è stato facile. Io sono entrato senza fare neanche un secondo di riscaldamento, però per come si è messa la partita è andata bene, penso che comunque è stata una rezza, insomma magari non abbiamo fatto trame di gioco come di solito facciamo, però penso che comunque è stata dura venire a Livorno, comunque è una squadra attrezzata, però penso che ce la siano giocata bene, siamo passati in svantaggio, abbiamo subito pareggiato e dopo sono successi gli episodi, insomma che ci hanno messo un po' di difficoltà, però siamo stati bravi a tenere i risultati.